allora ragazzi in questa missione abbiamo ben sette kodama da raccogliere andiamoli subito a cercare wow allora il primo kodama dove dove eccolo qua ciao allora per il secondo invece abbiamo da camminare un pochino eccolo qua il secondo andiamo dal terzo ecco qua il terzo andiamo dal quarto ecco qua il quarto il quinto è molto molto vicino subito qua eccolo qua il sesto è molto vicino andiamo a prenderlo eccolo qua per il settimo e l'ultimo dovremo prima sconfiggere tutti i vari yokai qui in particolare questo perché ci serve per prendere la chiave poi la chiave si può prendere anche senza senza ucciderli ma è meglio come volete ecco qua ed ecco qua l'ultimo allora ragazzi in questa missione il kodama non è lontanissimo bisogna solo far fuori un nemico ed eccolo qua allora per il secondo invece anche qui bisogna fare piazza pulita sono parecchi nemici ed eccolo qua allora dove il primo qua anche il secondo è lontano Grazie. 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 Grazie.